Io sono Giovanni Marcuori, ho fondato officine musicali del Borgo nel 2000 quando avevo 34 anni e la barba non bianca. Ho deciso di mettere su questa scuola come obiettivo riuscire a far suonare anche le persone che non vogliono fare questo di lavoro. Quindi non ci rilogiamo solo ai professionisti ma anche alle persone che fanno un altro lavoro, che magari non hanno più 12 anni e che si vogliono dilettare con la musica. Avvocato che da tutta la vita che ha sognato di suonare il sassofono adesso si è trovato a poter coltivare una sua passione. La forza nostra è stata mettere insieme con tutti gli altri appassionati e quindi abbiamo creato big band, band che fanno blues, blues brothers, jazz. E questi si trovano a suonare e non l'avrebbero mai detto, cioè c'è uno scambio di emozione. E quindi vedi le amicizie, vedi le persone che stanno insieme, che fanno cose insieme. Questa è la funzione di questa scuola qua, cioè mettere il virus della passione per la musica, coltivarlo e magari dargli anche uno sbocco.